ed eccoci qua cari amici pomeriggio qua cocao e niente improvvisiamo questa diretta dato che c'è hanno messo in movimento questo questo camion che è uscito insomma la gran novità di questo raduno niente eccolo qua ragazzi abbiamo qua questo bellissimo om titano qua del bravo graziano per anni ci ha tenuto un ascolto e niente ragazzi è uscito è uscito così è uscito dal mistero e niente andiamo a vedere qua questo fantastico titano e tagli prezzo rotto buccarda qua mi ricordo tre asci perlini eccolo qua c'è un po' la diretta qua la gente è un po' incuriosita questa gran novità qua del bravo graziano adesso andiamo a vedere sempre qua dal raduno il camion storico nord est a cocao insomma l'OEM titano qua di graziano ben conservato direi come piacciono a noi eccolo qua allora qua tiziano e graziano non la diciamo di chi anno è sto camion dovrebbe essere un intervogno che non sappiamo dovrebbe essere un sessanta un sessantadue ma adesso però non lo sai precisamente non lo so perchè vabbè lei non è un po' importanza comunque bellissimo comunque eh questo qui ha proprio fatto la storia delle tavole faceva tanta Jugoslavia questo camion qui recuperava le tavole da parte che li portava per l'Italia ah ecco ed aveva fatto le prime modifiche dei falegnami che scaricavano tutto il fasciame con ribaltabile motore su originale? no motore su questo qui monta su un 91 ah un Fiat 691 va bene l'importante è che comunque il camion funziona ed eccoci qua ragazzi l'OM titano con il motore del Fiat 691 per me ha sempre il suo passino adesso ve lo faccio vedere eccolo qua e niente adesso diamo un'occhiata qua in cabina eccola qua la cabina ecco qua da Branda al centro fantastico stiamo qua su l'OM titano su l'Origraziano che se l'ha presentato eh questo raduno e niente vai aspettato più o meno abbiamo fatto vedere tutto più o meno e niente ragazzi anche a massa mi raccomando bisogna quando dovrai tenerlo te vero? tratti bene mi raccomando è spettacolo questo eccezionante e niente ragazzi bellissimo bello bello beh conservato la targhetta c'è? è dell'OM però è difficile trovare i motori in qualche modo riguardo le raccettine e niente ragazzi è tutto originale? parte il motore e niente guardate qua cari amici bravo Graziano qua Stefano fai un saluto dai oh Stefano dai ciao bravo Graziano fammi sentire dai una rombata una scoreggia devi sentire dai trovo una scoreggia bravissimo dai eccolo qua eccolo qua vai grazie grazie va bene così eccezionale eh spettacolo ragazzi va M.T.T.A. insomma questa è musica non è la discoteca questa è musica ora no eh ragazzi M.T.T.A. l'abbiamo presentato lì sembra che c'è la figlia come ti chiami? Sidra eh? Sidra Sidra? Sidra Sidra? oh mi raccomando eh tenilo bene ecco e questo qua è meglio della Ferrari hai capito? spettacolo ragazzi ciao a tutti qua abbiamo visto Graziano qua un po' orgoglioso del suo camion mi raccomando no sto raccontando delle bugie agli amici perché vogliono sapere un po' di tutto la pressione delle gomme ho detto 4 e mezzo e la pressione della ragazza di là ho detto 8 perché comunque ah bene non si sa rischio il copio ragazzi spettacolo dai comunque meglio della Ferrari eccezionale ragazzi OM Titano qua è bravo Graziano abbiamo presentato anche la figlia Sidra insomma dai questa è la novità la novità è di di cocao eh a Raduno Camion Storici nord-est abbiamo presentato qua la novità ragazzi vi saluto gran spettacolo ciao a tutti ciao